Dopo i precedenti appuntamenti sul tema, come il Flash Mob e l'esposizione ospitata alla Casina Pompeiana, si conclude oggi la rassegna Marzo Donna 2017. L'ultimo appuntamento è per l'iniziativa Incontro Donna, Storia, Storie e Storiografia, con l'adesione del Senato della Repubblica Italiana ed il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli. Video e documentari sul tema della violenza, provenienti anche dalle scuole, un romanzo inchiesta sulla storia di una donna invisibile nella società italiana dei primi del Novecento, un viaggio nel mondo dell'arte con la Scuola di Grafica d'Arte dell'Accademia di Belle Arti di Napoli ed una mostra fotografica prima dell'illuminazione simbolica in rosso attesa in serata del maschio angioino. Durante tutti gli eventi, più di 140 iniziative in tutta Napoli, sono emersi le difficoltà nel rimuovere gli ostacoli per raggiungere la parità, che ancora molto si deve fare sull'empowerment e anche sulla conciliazione vita-lavoro. Tutte queste rappresentazioni che abbiamo avuto in città sono lo spunto per noi per fare un libro bianco dove scrivere questa filiera, questa network, questo gruppo che diventerà una rete, una rete che collaborerà su tutti i problemi appunto per il raggiungimento della parità di fatto. Grazie. Grazie.